Qualcosa che mi raccontava mio padre sempre, perché poi i paesini sono quelli che sono, nessuno ha saputo dire mai niente, non c'è una foto, quindi si figuri. Di Pietro Buccolo, carabiniere di San Paolo Albanese morto in Istria nel 1944 a 29 anni, non resta neanche una foto, ma la memoria di vittima delle foibe è stata finalmente restituita alla famiglia e consegnata alla storia. Nel giorno nel ricordo dei massacri di cittadini italiani da parte dei partigiani slavi e dell'esodo Giuliano Dalmata, il prefetto di potenza Michele Campanaro ha insegnato Buccolo con la medaglia d'onore della Presidenza della Repubblica, consegnata al nipote. Carabiniere anche lui, come lo zio morto sul fronte. Buccolo fu trucidato il 4 febbraio ad Acquaviva di Pinguente, in Istria, mentre scortava un treno da Trieste a Pola insieme ad altri militari, tutti uccisi nell'assalto al convoglio da parte dell'esercito popolare di liberazione della Jugoslavia che rispondeva agli ordini del maresciallo Tito. Furono 250 i carabinieri ammazzati tra fiume, l'Istria e la Dalmazia. Tra il 1941 e dopo la caduta del fascismo fino al 1945, a essere giustiziati e gettati nelle foibe, le cavità naturali del territorio carsico, non furono solo fascisti e militari di stanza nelle terre oltre il confine nord-orientale, ma anche cittadini italiani innocenti. Soltanto per la loro italianità in quel momento rappresentavano un ostacolo alla presenza e all'occupazione jugoslava.